Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, oggi stavo effettuando le analisi attraverso l'elettroencefalografo perché mi ero accorto che mi stavano attaccando e manipolando con le armi ad energie dirette a frequenza indotta alternata che crea una sorta di elettroshock, che crea una sorta di manipolazione indotta attraverso la narcolessia e attraverso le frequenze di interazione cerebrale che vengono totalmente manipolate all'interno del mio cervello e all'interno di molte cavie che entrano in uno stato di narcolessia indotta e incominciano a sentire allucinazioni simulate e sia visive che uditive. Come potete vedere il grafico è molto alterato oggi e pensate che ho già preso un moment per i mal di testa fortissimi che mi avevano creato, hanno cercato di pilotarmi ad andare in luoghi a me sconosciuti ma che attraverso le loro manipolazioni e i loro puntamenti con pressione elettromagnetica si capisce o si intuisce che sono luoghi dove vengono effettuati esperimenti con arma ad energia diretta. Guardate come ho finito di dire questa cosa mi stanno rallentando i ragionamenti e hanno incominciato ad attaccarmi con l'arma ad energia diretta quindi oltre che ci vedono dentro casa quei satelli di spia ma sentono i nostri ragionamenti perché come se stiamo in terapia intensiva. Guardate l'attacco o intontimento, bruciori nel cervello, rumori fortissimi nei condotti uditivi, appannamento della vista e perdita della memoria temporanea. Questo non riesco neanche a parlare più bene, neanche a velocizzare il mio dialogo perché l'attacco è proprio valese. Forse questo è la prima testimonianza a livello mondiale di una cavia umana che viene attaccata in diretta con l'arma ad energia diretta satellitare e gli effetti collaterali che crea l'arma. Come ho finito di dire quella frase di prima, gli attacchi sono stati devastanti e questo che loro creano per eliminare i testimoni, per eliminare le cavie umane scomode come me e come tante altre cavie che vengono. Avete visto? Ho perso la memoria temporanea e stanno manipolando i miei ragionamenti. Vogliono screditare le nostre denunce, vogliono screditare la nostra verità, vogliono screditare la nostra capacità di ragionamento intellettivo. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonio. Grazie a tutti.